16 lotti artigianali, oltre 30.000 metri quadrati disponibili dai quali più di 10.000 per area edificabile, è stato definito dall'amministrazione comunale di Canicattì l'avviso relativo all'assegnazione degli spazi artigianali sorti all'interno della zona PIP che sorge in Contrada Bastianella e finanziata per oltre 2 milioni di euro. La corsa contro il tempo dell'amministrazione comunale sembra essere quindi andata a buone fine con il bando per l'assegnazione dei lotti che verrà pubblicato prima della fine dell'anno, termine che se non verrà rispettato comporterà la perdita dei finanziamenti. Lo schema del bando è stato definito nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale e prende spunto dal regolamento per l'utilizzo dell'area artigianale redatto nel 2010. In un primo momento l'amministrazione di Ventura aveva in mente di apportare alcune modifiche al regolamento per rendere maggiormente appetibile il bando ma questa possibilità è stata accantonata a causa dei tempi ristretti che non avrebbero consentito di arrivare alla pubblicazione dell'avviso entro la fine dell'anno. I 16 lotti artigianali che sorgono in contrada a Bastianella e ultimati già da oltre due anni potranno quindi essere acquisiti secondo due modalità. La prima riguarda la completa vendita degli spazi in questione, la seconda invece prevede la gestione del diritto in superficie per un periodo complessivo di 60 anni. Ovviamente per le due diverse modalità sono previsti costi differenti. A spiegare i criteri previsti dal bando di prossima pubblicazione è stato l'assessore comunale allo sviluppo economico del comune di Canicati Davide Allalicata. Il prezzo di vendita dei lotti artigianali verrà determinato in base a quello praticato per la vendita di analoghi spazi all'interno dell'area Asi più vicina al comune di Canicati, cioè quella di Ravanusa, ha spiegato l'assessore Allalicata. Per quanto riguarda invece la gestione del diritto in superficie, per determinare il costo deve essere applicata la tariffa comunale relativa all'occupazione di suolo pubblico. In questo secondo caso il costo si aggira attorno a 30 euro al metro quadro. Il bando potrà essere approvato alla Giunta e successivamente pubblicato, cosa che dovrebbe avvenire entro la metà del mese di novembre.